Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Situazione davvero desolante tra le palazzine Aterdi con l'atterrato di Teramo. Dopo sei anni dall'ultimo sisma sono ancora 800 gli sfollati e tutto resta cristallizzato al 2016. Ricostruzione al palo ma anche la denuncia di scarsa manutenzione per gli immobili ancora agibili. Intanto il comune è costretto ad anticipare due mensilità del 2022 di contributo di autonoma sistemazione non ancora erogate dalla regione Abruzzo. Nel quartiere collaterrato di Teramo sono circa 800 gli sfollati delle palazzine Ater a restare ancora fuori casa dopo sei anni dall'ultimo sisma. Appartamenti abbandonati, preda di vandali e ladri che ormai hanno saccheggiato quelle povere cose rimaste dentro. La ricostruzione qui non è mai partita ed è una prima denuncia. La seconda riguarda la mancata manutenzione di quelle case che non sono state sgomberate e dove i residenti continuano a vivere lamentando servizi igienici e infissi rotti da anni. Una situazione veramente desolante. L'atter di Teramo tra un annuncio e l'altro su nuovi alloggi da assegnare fa sapere di essere gravemente sotto organico e che la responsabilità è piuttosto da attribuire alla burocrazia infernale per la ricostruzione pubblica. La percezione che si ha parlando con i residenti del quartiere è la perdita di speranza, soprattutto negli anziani che non credono più di poter trascorrere gli ultimi anni della loro vita in quelle case tanto amate. Sono case forse dei centi popolari che c'è tutto questo lassismo, questa indifferenza, perché dopo sette anni con cinque commissari nazionali diversi, con tre commissari ater, siamo ovviamente al punto di partenza. Scoraggiati è poco, ci si lamenta e ci si chiede il distacco tra la politica e il cittadino. C'è questa autonoma sistemazione che ammorbidisce un pochettino praticamente la propria... Ma lei mi dice che tante sue cose personali sono state rubate. Ormai il mio portone è sfondato, quasi tutti gli appartamenti sono stati visitati dai ladri e quindi è veramente una situazione indescrivibile. E poi questa non cite. Noi sono veramente cinque anni che ad ogni insediamento sembra che si è risolto tutto. E ovviamente è la vigilia dei voti. Anche chi abita le case popolari, le case ater, lamenta la mancanza di manutenzione da decenni. Quelli che ancora stanno nelle case, ovviamente molte volte la manutenzione viene disattesa. Come piccolo comitato riceviamo praticamente telefonate soprattutto dagli anziani, dagli anziani che ci chiedono se riusciranno a rientrare nelle loro case prima della dipartita. Ma c'è un dramma nel dramma per gli sfollati di Collatterrato ed è il continuo ritardo con cui viene erogato il contributo di autonoma sistemazione. La regione paga dopo mesi e il comune di Teramo è dovuto intervenire per anticipare le somme. Oggi siamo alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il centrodestra Teramano punterebbe su Pietro Quaresimale, assessore regionale leghista come candidato sindaco da contrapporre a Gianguido D'Alberto. A sparigliare le carte è arrivata a sorpresa la decisione dell'avvocato Carlo Antonetti che ha deciso di scendere in campo e candidarsi a primo cittadino come alternativa civica. Sorprese dietro l'angolo nelle candidature a sindaco di Teramo. Ancora nessuna decisione ufficiale dal tavolo del centrodestra abruzzese riunintosi a Pescara per discutere delle prossime elezioni amministrative a Teramo. L'incontro si è svolto alla presenza dei coordinatori regionali e territoriali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc e sarebbe servito per ritrovare una compattezza perduta con la Lega che in occasione delle elezioni provinciali ha fatto scelte diverse. Sono stati tre i nomi su cui si è acceso il confronto. L'attuale assessore regionale lighista Pietro Quaresimale che sembra essere in pole position, Pasquale Tiberi di Fratelli d'Italia e l'avvocato Carlo Antonetti supportato da un folto gruppo civico. Il centrodestra si è preso dunque una giornata di riflessione per ufficializzare il proprio candidato ma è palese che Quaresimale sia già in campagna elettorale. Tutto regolare quindi centrosinistra con Dalberto contro centrodestra con Quaresimale. Ma ecco la sorpresa che spariglia le carte. L'avvocato Antonetti, dopo aver incontrato i suoi supporter e aver toccato con mano l'entusiasmo di tanti cittadini è determinato ad andare avanti e a proporsi alla guida della città come alternativa civica. Antonetti non sarebbe sostenuto solo da un gruppo di professionisti che ha firmato l'appello per la sua candidatura ma probabilmente anche da diverse liste civiche di futuro IN e di azione di Giulio Sottanelli. Infatti il coordinamento comunale del partito di Calenda nonostante la candidata a sindaco di Italia Viva Cristina Marroni ha già espresso l'attenzione e l'interesse a incontrare l'avvocato Antonetti per meglio comprendere quali potrebbero essere la sua visione di città e le possibili corrispondenze. Traduzione del politichese, anche azione appoggia Antonetti e Antonetti promette di riportare Teramo in Serie A e riscrivere una nuova e entusiasmante pagina per la città. Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Castronio a Teramo due clan rivali sono venuti alle mani dopo aver aggredito l'agente di sorveglianza. Per il Sappe la situazione nel penitenziario terramano è diventata esplosiva a causa del sovraffollamento delle celle e della carenza di personale. Cominciamo nel dire che l'istituto penitenziario Castronio di Teramo con i suoi 400 detenuti a fronte di una capienza di 250 risulta essere uno dei più affollati d'Abruzzo e d'Italia con un grave sottodimensionamento dell'organico degli operatori. Risse, pestaggi, aggressioni agli agenti sono all'ordine del giorno e la situazione sembra precipitare nel caos più assoluto. L'ultimo episodio di violenza è di poche ore fa e ha coinvolto due clan contrapposti che sono venuti alle mani. Secondo la denuncia di Giuseppe Pallini, segretario provinciale del SAP e il sindacato della polizia penitenziaria, per motivi ancora da accertare all'orario di chiusura delle celle un detenuto albanese inaspettatamente ha spintonato l'unico agente di sorveglianza riuscendo ad aprire gli sbarramenti delle sezioni e le due fazioni sono venute alle mani. Solo grazie alla prontezza di intervento del personale a corso, spiega Pallini, sono stati evitati i guai peggiori per l'ordine interno. A queste condizioni, conclude il sindacato, con un sovraffollamento di 170 detenuti in più non si può garantire la sicurezza dell'istituto e si mette a repentaglio l'incolumità degli operatori di polizia e dei detenuti stessi. Per il SAP non è dunque più rinviabile l'adeguamento dell'organico dei poliziotti e il trasferimento in altre sedi di almeno 70 degli attuali detenuti a Castronio. Sulla vicenda interviene anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Teramo in l'area De Santis, preoccupata di una situazione che ritiene essere esplosiva. Nella casa circondariale di Castronio, si legge in una sua nota, i detenuti vivono una doppia condanna, quella che devono scontare per i reati che hanno commesso e quella dell'affollamento delle celle. L'assessore De Santis si unisce all'appello del SAP ed entrambi si rivolgono al prefetto di Teramo, Massimo Zanni, sottolineando che non sia accettabile che nella città di Marco Pannella ci sia il carcere più in crisi d'Italia. Ance Teramo e Confindustria Teramo firmano un accordo tra le imprese aderenti sulla cessione dei crediti da bonus edilizi, una soluzione tra privati, la prima in Italia, che porterebbe a liberare 161 milioni di crediti incagliati in provincia di Teramo. Il protocollo sarà sottoscritto al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo. Si corre ai ripari per la cessione dei crediti da bonus edilizi e Teramo arriva prima in Italia nel proporre una soluzione tra privati che farà da apripista nel paese. Si tratta di un accordo sottoscritto da Ance Teramo e Confindustria Teramo che ha come obiettivo quello di creare un borsino di crediti fiscali tra le imprese aderenti alle due associazioni. I cantieri super bonus in provincia sono 737, i crediti incagliati si aggirano intorno ai 161 milioni di euro. Confindustria Teramo conta su 250 aziende con un fatturato complessivo di 4 miliardi di euro. La capienza dunque ci sarebbe. Qual è il vostro contributo a questa possibile soluzione? Diciamo che ci troviamo in una situazione abbastanza incagliata poiché i crediti, pensiamo che solo a livello nazionale, abbiamo 19 miliardi di crediti incagliati e quindi questo ha dato un blocco a tutto il sistema delle costruzioni. Quello che possiamo fare noi, prendendoci anche noi la nostra responsabilità in quanto parte integrante del sistema, è acquisire questi crediti in modo tale da ridare vigorosità da un punto di vista monetario a tutto il sistema delle costruzioni e quindi far sì che i cantieri ripartano e ce ne siano anche di nuovi. Acquisire come? Acquisire a livello proprio di acquisizione, nel senso che quello che cerchiamo di creare è un B2B, domanda e offerta, dove ci sono molte società edilizie che hanno molti crediti sull'F24, che ovviamente non vanno ad utilizzare, ma che non creano denaro per l'acquisizione di materie prime o quello che sia. Mentre noi andando ad acquisire questi crediti su F24 e potendoli utilizzare sul nostro F24, diamo denaro a tutto il sistema delle costruzioni e noi ovviamente ne beneficiamo quando andremo a pagare i nostri debiti. Senza la possibilità di cedere i crediti fiscali da bonus edilizi, in provincia di Teramo si potrebbero generare forti ripercussioni economiche e sociali. Attualmente sono 150 le aziende in grave sofferenza e a rischio 800 posti di lavoro, senza contare la perdita dell'indotto. Questa che proponete potrebbe essere un'ottima soluzione locale? Sì, sicuramente sì. Per derivare il problema che tutti conoscono dei crediti fiscali che sono nei nostri cassetti, abbiamo pensato di coinvolgere le aziende di Confindustria perché loro avranno sicuramente capienza all'utilizzo. Noi abbiamo i cassetti da cedere e potrebbe essere un buon punto d'incontro. Qual è la situazione in provincia di Teramo? In provincia di Teramo abbiamo valutato che ci saranno 160 milioni di crediti nei cassetti fermi. Non è poco per la nostra provincia, per la nostra realtà. Per contrastare la grave emergenza a povertà, il Comune di Teramo dà il via al progetto PRINZ. Gli interventi prevedono un numero verde H24 di pronto intervento sociale e un indirizzo di fermo posta per i senza dimora. L'iniziativa è realizzata in sinergia con la Caritas e altre associazioni di volontariato. Un numero verde H24 per pronto intervento sociale, oltre ad uno sportello e un indirizzo di fermo posta per tutti coloro in grave stato di povertà o senza fissa dimora. Si chiama PRINZ ed è un progetto del Comune di Teramo in sinergia con Caritas ed altre associazioni di volontariato rivolto a chi ha più bisogno per intervenire rapidamente nelle situazioni di emergenza. Pensiamo a quando troviamo sul territorio una persona che ha una vista dimora e la troviamo durante la notte. Ecco, c'è un numero verde, possiamo telefonare a questo numero verde, l'operatore risponderà e riuscirà a dare subito una risposta a questo bisogno. Ma anche il fermo posta è importantissimo. Perché? Perché noi sul territorio terramano abbiamo circa 100 persone che si trovano iscritte nella via virtuale, via del Portico, ma purtroppo non possono ricevere la posta. Pensiamo a tutte queste persone. Come fanno? Ecco, arriviamo in soccorso noi perché diamo il domicilio, quindi la residenza che verrà fatta nella sede, che è poi nella sede dell'Arci. Tutte queste persone potranno andare a prendere la posta e avere un domicilio. Attualmente in provincia di Teramo la vera emergenza povertà è quella abitativa. Infatti, gli affitti che erano stati bloccati per il Covid dovranno essere pagati e si preannuncia una lunga e dolorosa serie di spratti con tante famiglie sulla strada. Qual è lo stato di povertà nella nostra provincia di Teramo? Purtroppo l'aumento delle situazioni di povertà è notevole. I nostri centri di ascolto rilevano una grande richiesta, soprattutto nel pagamento degli affitti e dei mutui, perché le situazioni di sfratto che erano state bloccate durante il Covid adesso diventano operative e quindi si trovano famiglie con bambini con situazioni di disagio grave. Voi come le aiutate in forme immediate? Allora, per quanto riguarda la situazione abitativa, cerchiamo di sostenerne il pagamento dell'affitto se è una situazione rimediabile, altrimenti attraverso un'assistenza legale e poi magari nel cercare un alloggio alternativo che è molto difficile da reperire. Dal 4 al 6 marzo il Consorzio Tutela Vini Colline Teramane organizza una tre giorni di degustazioni per il pubblico e gli operatori nella Sala Ipogea e nella Pinacoteca di Teramo, un evento per festeggiare i 20 anni del Consorzio e del gradimento che questi vini stanno ottenendo nel mondo intero. È una ricchezza per il nostro territorio, una ricchezza culturale, economica ed enoturistica. È il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane che compie 20 anni di attività e festeggia questo traguardo con una tre giorni di degustazioni dedicata al pubblico e agli operatori. Dal 4 al 6 marzo, nella Sala Ipogea, nei saloni della Pinacoteca Civica di Teramo, si terrà la terza edizione di la nostra anteprima The Cool on the Hills. 20 anni di Consorzio e un evento per festeggiare. È certo, non potevamo non celebrarlo essendo il premio per tutti i viticoltori della provincia di Teramo che hanno contribuito alla nascita di questa che è stata la prima di OCG di Abruzzo ed è sicuramente una delle punte di eccellenza della produzione vinicola regionale. E quindi è una festa per noi e per tutto l'Abruzzo. Che importanza ha economicamente questo Consorzio per il nostro territorio? Economicamente è ancora piccola. La produzione di DOCG complessivamente non supera le 600.000 bottiglie in tutta la provincia. È una super nicchia di produzione. Però è una produzione di altissima qualità e dal punto di vista culturale è molto importante. E poi Colline Teramane da nome di vino è diventato nome di un'area geografica cosa che non era scontato. È un'idea che è nata nella testa di noi viticoltori e oggi è una realtà concreta, geografica che ha dei confini e ha un'identità precisa. L'evento The Cool on the Hills è stato realizzato con il contributo del MASAF, della Camera di Commercio e del Comune di Teramo. I vini del Consorzio di tutela Colline Teramane stanno riscuotendo successo nella grande ristorazione italiana e sul mercato internazionale. Un consenso che fa volare turisticamente l'intera provincia di Teramo. Il Consorzio Colline Teramane è veramente una forza straordinaria per questo territorio. Il binomio territorio-vino deve comunque crescere molto. Noi stessi, cioè la gente di questa provincia deve capire quanto sia importante identificare un territorio con il vino. L'Abruzzo è terra, la terra più importante è la terra dell'anno per il vino secondo Wine Enthusiast quindi è importante in qualche modo rimarcare che il Consorzio Colline Teramane è uno degli attori principali di questa regione quindi per la nostra città è molto importante continuare su questo percorso. Grazie di averci seguito. Vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro responsabile formazione del gruppo Consorzio. Questa sera Luigi ci illustrerà il corso per diventare assistente all'autonomia e alla comunicazione per i disabili e l'importanza di questa qualifica professionale. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.